e bella a tutti ragazzi bentornati benvenuti nel mio canale youtube come sempre prima di iniziare questo gameplay ti ricordo che in descrizione se vuoi puoi acquistare questo ma non solo tanti altri giochi scontati in descrizione beh trovi anche i miei canali social e tanta altra bella robetta allora ragazzi dub mi ha scritto un messaggino mi ha detto guarda moreno ti do un'altra possibilità per il mio negozio visto che comunque sei stato bravo però le perdite sono andate un po' maluccio però ti diamo un'altra possibilità quindi ragazzi dub gentilmente mi ha dato una licenza nuova delle magliette e anche ovviamente i scaffali per mettere per appunto i vestiti quindi ragazzi dobbiamo implementare soldi e quant'altro dub comunque mi ha anche spostato il pc mi ha messo un po' in ordine diciamo il tutto quindi grazie mille dub per avermi dato questa seconda possibilità visto che comunque il gioco è anche uscito quindi grazie grazie mille dub per avermi dato questa possibilità allora ragazzi stavo pensando quest'oggi oltre che di farvi questa possibilità che dub mi ha permesso per l'appunto di darmi questa robetta io volevo prendere ragazzi un altro camerino perché almeno ne abbiamo due così la gente può anche provare altra roba quindi ne compriamo due eccoli qua per un valore di poco di 500 euro quindi grazie dub per questo piccolo aiutino insomma che mi ha permesso mi ha dato una seconda possibilità per cui hashtag viva dub allora adesso ci sono due camerini così uno può provare di qua e di là i prezzi non li dobbiamo modificare ogni giorno da quello che mi sono reso conto in live su twitch e provandolo anche off camera quindi niente ragazzi direi che quasi quasi però sposterei un po no va bene anche così per ora poi vedremo allora intanto apriamo negozio quindi dub mi raccomando lascia un bel like per questo video ovviamente ragazzi questo giro mi tocca lasciare il canale di dub in descrizione quindi mi raccomando vallo a seguire che è un bravo ragazzo anzi come direbbe lui è un bravo voglione quindi mi raccomando una bella iscrizione anche al mitico maestro dub logistica e ovviamente ragazzi i primi clienti sono entrati stanno acquistando una roba stanno provando il loro vestario vedete che comunque ho fatto bene a mettere un secondo camerino perché uno prova uno entra uno fa uno briga ovviamente però non avemmo molto tempo da stare qui a mettere sulla roba dovremmo assumere un cassiere comunque o un cassiera o comunque qualcuno che ci mette a posto la roba no quindi per ora direi che facciamo solo queste cose qua perché per fare cassiere dobbiamo salire di livello ovviamente un po come supermarket quindi anche di tanta roba ragazzi poi ovviamente da questa settimana usciranno solo video di farming giusto questo un po per cambiare sennò veramente sempre farming e sempre farming e poi tu mi dirai ma fai sempre farming giustamente come non darti torto quindi a maggior ragione devo un po cambiare quindi portate pazienza almeno oggi e lasciate un bel like una bella iscrizione al canale e anche un bel raffreddore da climatizzatore acceso mi raccomando allora intanto mettiamo qui sono a posto quasi quasi mi ordino da zio gigino un paio di t-shirt nuove da questa licenza nuova che dub ma gentilmente sbloccato quindi eccolo qua perfetto compra perfetto così almeno siamo a posto per un bel po' almeno non devo impazzire ogni volta eccoci qua comunque oggi da me fa un po più fresco del solito però non necessariamente tanto per stare senza clima quindi ancora un paio di mesotti poi finalmente starò senza clima finalmente devo dire quindi 35 di resto e 80 perfetto anche lei signor paga con la carta ottimo 26 e 80 avanti un altro anche voi pagate con i contanti perfetto devo dare subito una mossa qui a dare il resto perché devo dare anche mettere a posto le robe la sui pipini perfetto anche lei paga con i contanti ottimo resto 0 perfetto avanti un altro lei paga con i contanti resto 13 e 20 centesimi eccolo qua perfetto adesso visto che c'è un po' di tregua ne approfitto per mettere su dei vestiti rossi eccoli qua poi prendo quelli gialli quelli giallognoli eccoli qua poi devo prendere quelli rosa che sono qua perfetto mettiamoli su perfetto va bene così intanto abbiamo fatto un po' di scorta anche se poca però va bene meglio poco che niente devo fare degli altri ordini che farò poi prossimamente allora mettiamo anche qui il vestito rosso mannaggia vanno via i vestiti blu ragazzi e vanno via in questo gioco i vestiti blu quindi compriamo dei vestiti blu ne compriamo due perfetto io avrei bisogno degli scaffali da mettere nel magazzino perché sennò veramente qui è un casino con i vestiti raga è un casino un casino veramente un casino hashtag casino allora vai dub scrivemi casino allora perfetto o casino come volete 5 euro 5 6 7 30 perfetto avanti un altro signori poi lei mi paga con il resto niente resto perfetto avanti un altro anche lei mi paga con i contanti gli devo dare 53 quindi 58 55 58 e ovviamente 30 centesimi perfetto lui ha comprato solo magliette gialle infatti sono finite le magliette gialle mannaggia quasi finite sono finite anche le nuove licenze che dub ma gentilmente dato per cui le devo mettere assolutamente spero che tutti pagano con la carta in modo tale che faccia un po di livello 43 e 70 vai avanti un altro questo paga con la carta ottimo 48 e 70 perfetto anche lei signor paga con la carta ottimo grazie signora che mi ha dato un bel un bel un bel pipino perfetto anche lui anche lui anche lui anche lui anche lui anche lui avanti avanti un altro 41 e 70 perfetto un po di pausa qui per me per poter caricare sui vestiti che questi andavano di la mannaggia vanno di qua questi ok poi li butterò fuori l'anzi tutto fuori da adesso le scatole ok ok buttiamo fuori le scatole adesso devo preno buttato via quella mannaggia il signor deve aspettare un attimo sono da solo aiuto sono da solo vengono tutti mo che è sto casino che è sto t shirt rosa non ne ho t shirt blu ne ho perfetto mettiamo sulle t shirt blu devo prendere t shirt rossa e gialle devo prendere le gialle e queste e queste ok check out compra lo so che sono finite lo so signore adesso arrivano adesso arrivano adesso arrivano mi di un momento mi di un momento signor signor mi di un momento arrivo a mio ok ragazzi ci siamo andiamo avanti con gli altri vestiti gli altri clienti andiamo avanti con il resto che non deve non devo non devo non devo dare resto perché devo da assi no sì 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 devo dare resto 5 70 perfetto lei signor lei signor paga con i contanti vuole 50 60 50 no allora 50 60 neanche 40 50 60 70 e 4 no sono 5 questi mannaggia 4 lo so che c'è fila lo so per portate pazienza buonomi buonomi portate pazienza allora 24 euro 20 4 no 5 4 1 2 3 4 i 20 centesimi perfetto avanti un altro prego signor paga con la carta benissimo 13 90 lo so che la giornata finita però vorrei accumulare un po di soldi e anche un po di esperienza perché se non ne facciamo 6 80 perfetto andiamo avanti adesso vi faccio vedere anche che vi richiede comunque un po di esperienza per fare i livelli perché sennò non potete acquistare nulla quindi è quasi un po meglio di supermarket a livello esperienza che vi faccio vedere prima di concludere il gameplay che adesso andiamo sul tablet e io cerco come si chiama io cerco contratti no questi sono i contratti che dub ma gentilmente fatto firmare infatti come vedete c'è la mia firma da qualche parte qua vedete questa è la mia firma poi come diciamo assumere dipendenti per per assumere dei dipendenti dobbiamo andare livello 7 ragazzi quindi io man mano adesso giocherò un po off camera in questi giorni di feste se avrò tempo e niente ragazzi direi che concludo qui la giornata vediamo un po come è andato direi che è andato abbastanza bene abbiamo perso un po d'affitto abbiamo recuperato un po qualcosina però comunque dai siamo andati abbastanza relativamente bene ragazzi quindi ringrazio ancora dub per avermi dato questa seconda possibilità se volete altri episodi simili a questo mi raccomando un bel like campanella in descrizione canale e mi raccomando condividi con dei tuoi amici io ho detto questo ragazzi vi lascio con la sigla ciao a tutti alla prossima ciao 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 ciao